Le regole che vengono date dalla regione e che vengono date di vero... Si sono presentati in massa circa 50 tra ristoratori e albergatori. Questa mattina si sono fatti trovare in comune ad insaputa del sindaco Matteo Ricci. L'obiettivo era quello di poter incontrare il primo cittadino per chiedergli di farsi portavoce in regione al governo della drammatica situazione che stanno vivendo da mesi. Tutto questo è insostenibile, ha detto uno dei ristoratori presenti. Siamo stati lasciati soli dal governo, noi continuiamo a pagare gli affitti, tasse e tributi pur essendo chiusi. Se non ci sono i ristori per tutti, ci facciano riaprire e lavorare. Con loro il segretario provinciale di Confcommercio Davide Ippaso che ha spiegato le ragioni dell'incontro. Far capire che non ce la facciamo più. Purtroppo cosa succede? Succede che oggi per esempio siamo gialli e domani siamo gialli ma la metà dei ristoranti, più della metà dei ristoranti non riapre perché non è in grado di poter riaprire. Il governo è lontano anni luce da quelle che sono le necessità degli operatori. Siamo stati sempre stati dichiarati untori. Abbiamo attivato spendendo migliaia di euro per attivare i protocolli Covid. Nell'ultima parte dell'anno il Presidente del Consiglio Conte aveva detto che ci avrebbe salvato il Natale. Il Natale non è andato perché ci hanno chiuso. In questo momento le attività sono con l'acqua alla gola. Molti dei ristoratori ci stanno dicendo che non ce la faranno. Siamo venuti qui per far capire che vogliamo e che venga garantito l'articolo della Costituzione nel quale dichiara che alla base della Costituzione italiana c'è il diritto al lavoro. Stiamo qui a chiedere di andare giù a Roma perché loro possono andare giù a Roma di andare giù dai nostri politici romani e dire di fare basta. La pandemia esiste, sì, ma esiste per tutti e non siamo noi la causa della pandemia. Bilancio drammatico anche per il turismo provinciale che durante le feste natalizi ha perso circa 40.000 presenze senza ottenere alcun ristoro come ha ricordato lo stesso Presidente degli albergatori Fabrizio Oliva. Gli alberghi annuali oramai sono chiusi da qualche mese. Noi non abbiamo un codice a teco che non ci permette di lavorare ma non lavoriamo perché non c'è gente. Non ci sono eventi, non ci sono congressi e non c'è più il turismo del business. Quindi siamo costretti a stare chiusi. E peraltro in questo decreto del ristoro di Natale noi siamo stati esclusi. Questo è un grave errore che ha fatto lo Stato. Gli affitti, le bollette, la mancanza di capare perché la gente in questa fase non prenota e quindi gli alberghi sono messi veramente molto male assieme ai tour operator. Ad ascoltare le richieste degli operatori l'assessore alle attività economiche Francesca Frenquellucci che si è detta disposta ad accompagnarli in regione per fare da portavoce alle loro richieste. Ho fatto presente loro tutto il lavoro fatto dal comune di Pesaro per cercare di aiutare, come abbiamo già spiegato, riguardo anche agli spazi e le zone ZTL che le abbiamo fatte diventare gratuite. Anche le lettere che abbiamo mandato in regione. La lettera che abbiamo mandato anche ultimamente ad ottobre dove chiedevamo ristoro e aiuto concreto a tutte queste attività e di richiederlo in modo celere. Continueremo a fare il nostro dovere nelle possibilità che ha un comune, come ho sempre detto, dove possiamo noi interveniamo. Io sono anche ben disposta, insieme a tutti loro, a muoverci. Sono assessore del comune di Pesaro quindi voglio il bene di queste attività e andare a chiedere e spingere la regione ad aiutare tutte queste attività in grosse difficoltà. Domani mattina gli stessi albergatori e ristoratori saranno ricevuti nuovamente in comune dal sindaco Matteo Ricci.